Eccoci qui come state, un saluto a tutti ben ritrovati, un abbraccio da Milanello, la casa dei milanissi su YouTube, mi raccomando commentate e fatevi sentire e iscrivetevi qui se avete ancora fatto, siamo 100.999 quindi se tu sei il prossimo se andiamo a 101.000 finalmente. Vi ricordo anche di lasciare un bel like, ecco mi piacerebbe vedere 10.000 visualizzazioni, 10.000 like, ogni like è un bel forza mila, vediamo quanti sono i rosso-neri, ovviamente tutto gratuito e provate a vincere la maglia di Leao, domani, domani la segniamo autografata quindi scatenatevi, scaricate l'app di Diez da questo link, seguite su Instagram mbmaglie e se fate tempo portate qualche iscritto al nostro canale YouTube e poi scrivete il vostro nome in un commento. Vigilia, vigilia, vigilia di una gara importante, 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 oggi giocano anche altre squadre, se arriva qualcosa ben venga altrimenti insomma pazienza, pensiamo a noi anche perché insomma ce n'è da pensare e devo dire che insomma la gara di domani è molto sentita. Ma vi dico la verità, con tutti gli effettivi non avrei assolutamente temuto la Juventus, sarei stato molto tranquillo e essere molto tranquilli quando di fronte c'è la Juventus è tanta roba. Ora sicuramente con queste defezioni un po' di preoccupazione naturale c'è, non è paura, un po' di preoccupazione sperando di riuscire a essere ancora più forti nonostante questa assenza, anche loro ne hanno qualcuno ma hanno recuperato Chiesa che va in panchina e vediamo un po' insomma che cosa emerge. Detto questo, novità importanti, qui mi scateno un po' ragazzi, dico subito una cosa senza dire però il nome, 3, voto 3, tra poco qualcuno capisce, o quelli degli anni 80-90, sacchi, 3, adesso ci arriviamo. Allora intanto, novità importanti sul discorso scommesse, partiamo subito da questo, poi veniamo a 2, voto 3, ma a 2 che male male male, anzi partiamo subito dal primo male male male, poi discorso scommesse, poi voto 3. Male 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 male, è lui il celebre Monguzzi, nuova puntata, eccolo qui. Allora, come sapete, c'è stata questa decisione ufficiale del Comune di Milano di fare ricorso per portare poi all'abbattimento dello stadio, ricorso su quel vincolo di interesse culturale che impedisce di buttare giù l'anello di San Siro e questo appunto impedisce a Milano e Inter di fare lo stadio lì. Sapete che per quanto riguarda lo stadio lì, per quanto riguarda la Maura, c'è stato sempre ostracismo da parte soprattutto di qualcuno, in particolare questo Monguzzi che non conosco, forse l'ha qualche volta incrociato ma non mi interessa, che ha sempre detto colata di cemento, che non vedeva neanche i progetti e li bocciava senza neanche averli in mano, che poi dovrà dare delle spiegazioni su come verrà utilizzato eventualmente San Siro, se Minan e Inter andranno altrove, ebbene lui, lui adesso se la prende con il Comune che richiede di togliere questo vincolo, è una decisione gravissima, il vincolo salverebbe il meazza dall'abbattimento che causerebbe l'emissione di 210.000 tonnellate di CO2 e 150 camion al giorno per 5 anni, un disastro ecologico. Ora, purtroppo io credo che qualcuno strumentalizzi il verde, che è un'ottima causa, ma qualcuno strumentalizza per avere un distinguo, un credo d'essere, una ragione d'essere nel quadro politico di Milano. E' una situazione che sta diventando imbarazzante, ripeto, strumentale, dopodiché vedremo poi che cosa ne sarà di San Siro, se il Monguzzi andrà lì a fare le riunioni di condominio, se magari andrà a fare il cenone di Natale lì in mezzo, però paga, se andrà a fare lui le partitelle con i suoi amici, però paga, in ogni caso è una vicenda brutta e anche in questo caso secondo me il Monguzzi e quelle parti lì perdono una buona occasione per stare zitti perché non si rendono conto, cosa che invece Sala adesso si è reso conto, della gravità a Seminari Inter vanno altrove. Poi su questi dati avrei anche qualcosa da obiettare, ma fermiamoci qui. Dopodiché capitolo scommesse, allora intanto 30 secondi su Fagioli, che è stato il primo, poi ha tirato in mezzo anche Tonali, dice che è stato lui a dirmelo, Tonali dice non è vero, si sta configurando un profilo un po' particolare di questo Fagioli, che ad esempio Agatti diceva prestami 40.000 euro, scusa, sì, 40.000 euro Agatti e Dragosin, che devo comprare un orologio, in realtà non era per quello, quindi è uno che la bugia ce l'ha. Pensate quanto pare, lui alla procura della FGC quindi calcio, ha detto sono stato minacciato, venivano lì alla continassa, mi diciamo di spezzare le gambe, cose molto gravi, che però non ha detto alla procura di Torino, giustizia ordinaria, che sarebbe stata invece la sede giusta per dire certe cose. perché, per impietosire da questa parte, o perché non è vero, il dubbio viene, tant'è che la procura di Torino ora vuole riascoltare Fagioli e chiedere perché a noi non ha detto queste cose molto gravi. è un profilo particolare, è un profilo molto particolare. Vediamo cosa emerge da queste incongruenze e come lui poi ne uscirà. Ma l'aspetto intanto su Barella, lo zio di Esposito, che ieri alla verità aveva detto sostanzialmente c'è anche lui, Barella poi si arrabbia, minaccia le vie legali. Lo zio di Esposito, ex giocatore dell'Inter, la famosa fonte, dice mi sono sbagliato a nominare Barella, mi sono confuso perché in questi giorni è molto citato. Ora, una spiegazione questa abbastanza ridicola. mi sono confuso, di fronte a una cosa del genere non ti puoi confondere, dici qualcosa che è di una gravità enorme, quindi non puoi dire poi mi sono confuso, scusate mi sono sbagliato. Quindi vedremo come evolverà questa vicenda. In ogni caso, ecco, crediamo in questo momento in assenza di elementi a Barella e diciamo che certe cose che emergono da fonti, presunte fonti, sono scandalose. Poi vediamo l'evolversi della situazione. Ma la cosa importante è che dalla chat, dalle chat, dall'analisi di dispositivi elettronici, quindi smartphone e tablet, dei soggetti coinvolti, quindi al momento tonali, fagioli, non so se anche dal dispositivo di Zaniolo, escono nuovi nomi di giocatori che sapevano. E quindi questi giocatori che sapevano, se verificate questa loro conoscenza, andranno a essere squalificati per almeno sei mesi per omessa denuncia. Quindi aspettiamo, vediamo, in quanto rossoneri ovviamente speriamo che nessuno dei nostri sapesse delle abitudini di tonali, ecco. Quindi ovvio che oggi, essendo stati beccati con le mani nella marmellata, fagioli e tonali, sono un po' più in apprensione i tifosi della Juve, del Milan, ma anche un po' anche delle altre squadre che hanno giocatori della nazionale, che giocavano, che conoscevano appunto nella under, piuttosto che nella nazionale maggiore, tonali, Zaniolo eventualmente, e lo stesso fagioli. Quindi aspettiamo e speriamo. Dopodiché ci siamo scatenati col Monguzzi, lo dico così in maniera colloquiale, sul discorso scommesso e vediamo che cosa succede. Però ragazzi, un po' a mano in cuore, mi sento di commentare questa ennesima uscita, secondo me un po' ingenerosa, di Arrigo Sacchi, durissima, contro Rafa Leao. Già ne aveva parlato non benissimo, poi ne ha riparlato non benissimo. Oggi secondo me è stato molto duro. Leao con me non giocherebbe. Io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasce con un certo temperamento è difficile acquisirlo. Leao, verbe tanto, tantissimo e credo che sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio però si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti. Una volta mi chiamò Allodi, Arrigo, vedo che fai correre Virdis. Allora sei bravo, bravo, bravo. Rispetto il parere di tutti, però anch'io posso commentare così come potete commentare voi. E dico, vi ricordate il professore, i ragazzi della terza C? Facevano sempre fare così. Sacchi, tre. Ecco, io dico, sacchi, tre. Perché secondo me questo diventa accanimento nei confronti di Leao. A parte che non sono emersi elementi nuovi rispetto all'ultima volta che l'aveva detto. Qui è diventato ancora più duro. Poi con me non giocherebbe. Ecco, non voglio mancare di rispetto a un'icona del Milan. Sacchi oggi non allenerebbe. Sacchi oggi non allena. Questa è la verità. Sacchi oggi commenta, ma non credo che ci sarebbe una squadra che oggi prenderebbe. Sacchi, il calcio è molto cambiato. Voglio pesare il discorso, ecco, perché mi spiace. Il calcio è molto cambiato e credo che il 100%, 100% di allenatori in circolazione ad altissimi livelli uno come Leao lo vorrebbero. C'è uno che ti risolve la partita da solo. Che è uno strappo incredibile. E' uno che segna e fa segnare. Lo scorso anno fa doppia cifra di gol e di assist. Quindi è pure altruista. Per me è una risorsa di squadra. Se fai doppia cifra di assist significa che hai giocato per la squadra. Ti sei messo a disposizione. Anche quest'anno ha fatto già diversi assist, oltre che gol. E l'ho visto, rispetto agli anni scorsi, a volte sacrificarsi un po' di più. Poi, se chiedi di sacrificarsi troppo, arriva con la lingua di fuori e non ha più gli strappi che lo caratterizzano. Secondo me, invece, oggi nel calcio moderno, sì che bisogna tutti collaborare. Però ci sta che qualcuno sia magari un po' più esente da certi compiti. Un po' più. Non totalmente. Ripeto, io quest'anno nelle pagelle mi ricordo, spesso ho detto bravo, sei anche sacrificato. Abbiamo visto cose che gli altri anni non faceva. Per questo mi sembra un attacco sinceramente generoso, gratuito. Mi sembra che ci sia anche un po' di accanimento. E niente. Purtroppo Sacchi oggi non allenerebbe. Perché rappresenta ormai un'altra epoca gloriosa. Ma il calcio è evoluto, è cambiato. E i giocatori come Leao fanno la fortuna del proprio club. Quindi, adesso, se lui fosse nel Milan non giocherebbe Leao. Ma di che cosa stiamo parlando? Metti Leao e poi metti tutti gli altri. Pur con le sue mancanze che ci sono. A 24 anni, su me un po' di margini ce l'ho ancora. Può fare ancora lo step. Però anche qui, il temperamento. Io quando lo vedo, non sempre, ecco. Però quando lo vedo partire, lo vedo il temperamento. Non lo so. Poi, ripeto, ognuno dice la propria. Se la dice con civiltà e rispetto va benissimo. Però qui mi sembra un po' ingeneroso, un po' prevenuto. E ormai c'è quella tese lì e va avanti. Come lo dico? Come quando dice che l'Inter gioca malissimo. calcio vecchio, eccetera, eccetera. Anche lì ha preso Inzaki e va avanti così. Questo per dirvi che lo dico indipendentemente dalla fede. Poi Leao voglio un bene a punto di vista calcistico. L'ho anche conosciuto. Tra l'altro sull'home page, sul nostro canale YouTube, vedete anche il video della consiglia del premio. Però, dai, mi sembra che sia andato obiettivamente oltre. Poi, bravo ragazzo, però guardo la persona, il temperamento. Non lo so. Che ne pensate? Scatenatevi con i commenti qui sotto. E io, come a Forum, dove tra l'altro c'era poi Bracconieri, che faceva Bruno Sacchi, se bisogna dare il sassolino, io lo do un sassolone a Lafaleao e non a Rigo Sacchi. Voto 3. Si scherza ovviamente, ma non troppo. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi. Ripeto, se vedete il video lasciate un bel like. Vorrei vedere 10.000 like per 10.000 visualizzazioni o 20.000 per 20.000 visualizzazioni. Facciamo un record e ci vediamo più tardi. Vi rimando al video di questa mattina in cui abbiamo fatto un'inchiesta molto importante. Un abbraccio.